Ehi, ce la dirai? Qualcuno oggi è fortunato! Il calcio è nel nostro cuore! Forza ragazzi! Luca vi aspetta dal 18 giugno in esclusiva su Disney+. Per noi, l'elettrico è oggi. Ed è tutto da vivere. Ora. Recharge Life. Nuovo Skoda Enyaq IV. Il SUV 100% elettrico. Anche i campioni azzurri bevono acqua Lete perché è un'acqua ricca di sali minerali essenziali per il tuo organismo che migliora il recupero muscolare e favorisce la reidratazione. Tifa l'Italia con tutte le tue cellule. Lete, l'acqua della nazionale italiana di calcio. Noi di Brown crediamo che il buon design debba essere progettato per durare. Così costruiamo il nostro Serie 9. Il rasoio più efficiente al mondo. E i nostri regola barba. Per avere il massimo controllo sul tuo stile di barba, capelli e corpo. Brown Prossima tappa, Suzuki Solutions. Tecnologie hybrid, comoderate e manutenzione inclusa. E dopo tre anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions, soluzione vincente. Suzuki. Noi di Lidl lo sappiamo. Mangiare sano italiano ti fa bene. Per questo ogni giorno mettiamo in campo frutta e verdura di qualità e siamo fornitori ufficiali della nazionale italiana di calcio. ma anche della squadra di casa tua. Perché i veri campioni lo sanno. Mangiare frutta e verdura ti fa bene. Ci ho pensato. Lidl anch'io. Tutto è pronto. Are you ready? Ma non si tratta solo di questo. Siamo qui a creare opportunità. Perché guardiamo le cose in modo diverso. Diversamente. Vediamo la possibilità di cambiare più di una partita. Di cambiare tutto. Su Sky nascono quattro nuovi canali. Tutti da scoprire. Sky Documentaries, Sky Nature, Sky Investigation e Sky Serie. Indovina perché sono qua? Su Sky Serie. Trovi le serie per essere sempre in buona compagnia. Gran senso duomo. Sì. Sky Serie. Dal primo luglio un nuovo canale. Guardalo. Prova SkyQ. A 9 euro per 30 giorni.